A Lido di Noto, su lungomare Iogno, in un'ampia aree di verde, Villa Midolo dallo zio Michele. È il posto ideale per qualunque occasione. L'elegante sala ricevimenti si propone per matrimoni, cresime, battesimi ed eventi vari, dedicando particolare attenzione al servizio e alla qualità della cucina. Inoltre, insieme ai tuoi amici, potrai gustare il sapore della vera pizza, di piatti raffinati e tipici siciliani, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. E Villa Midolo dallo zio Michele è anche bed and breakfast, a pochi metri dal mare, per una vacanza in totale relax. Ti aspettiamo a Noto Marina, su lungomare Iogno. Per informazioni, chiamalo 0931 81 20 36 o invia un'email a info-villamidolo.com Villa Midolo dallo zio Michele, tutto quello che cercavi. Il 21 marzo, Villa Midolo compie il trentesimo anno di attività. Per tutti gli eventi prenotati a marzo e aprile, uno sconto del 20%.